C'è una notizia importante, c'è stato il primo contatto telefonico fra Carlo Tavecchio, nuovo presidente della Federcalcio, e Antonio Conte, obiettivo numero uno per la panchina della nazionale lasciata libera. E non si poteva non scegliere un'eccellenza, in cinque anni ho vinto tre scudetti, uno scudetto, ho fatto due promozioni, cinque scudetti, per dare possibilità a, avevo fatto delle riflessioni iniziali. Il resto dell'avviso che ci vuole un condottiero, un comandante, sono antipatico perché vinco, non è un problema mio, si è creputo ad che si è venduto per tre anni e mezzo le banane la sua famiglia, i suoi compagni in Inghilterra. È una mia filosofia di vita e credo che sia necessario dare le banane a un condottiero che prima mangiava le banane. Tipo, bah, è venuto qua. Io innocente, io innocente, patteggiamo. Il mister Conte mi ha... Sono un po' fortunato che la prima squadra di Francia giocare il mio calcio. Oh, 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 ti, po' bah, è venuto qua. Avevo fatto delle riflessioni. Pobba, po' bah, po' bah, po' bah, po' bah. Pobba, po' bah, po' bah. Pobba, po' bah, po' bah, po' bah. Pobba, po' bah, po' bah, adesso gioco a titolare della Lazio.